Senatore Divina, in Val di Fassa stanno avvenendo dei furti singolari che non hanno mai avvenuti prima? Sta succedendo questo, un'allarme sociale incredibile. Le associazioni in categoria che hanno organizzato più manifestazioni per chiedersi cosa avrebbero dovuto fare, hanno interpellato le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, però hanno una grossa deficienza di organico. Ho potuto parlare con le varie stazioni e i carabinieri della valle, sia di Fiemme che di Fassa. Abbiamo 27 unità di organico come carenza. Ho chiesto pertanto al ministro di intervenire immediatamente. Al nord queste cose non passano sotto traccia. In altre parti del paese probabilmente la criminalità organizzata opera indisturbata. Da noi non è così e non sarà così. L'unica cosa che noi non vogliamo è che se non ci fossero interventi delle forze dell'ordine ci sarebbe un fai da te. La gente si arrangia e sa farsi anche giustizia da sola, però sarebbe un imbarbarimento della situazione. Il ministro dovrà rispondere a breve. Ho fatto un'interpellanza addirittura anche direttamente in aula. Ne abbiamo parlato pertanto in Senato. Quanto prima avremo numeri e risposte e io spero anche garanzie che questi episodi li si possa mettere in un cassetto come un episodio del passato mai più ripetibile.